Ciao a tutti, approfitta della rottura, scopri come. In questo video voglio spiegarti come approfittare di una rottura sentimentale affettiva per trarne beneficio, per trarne un vantaggio. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, come trarre vantaggio da una rottura sentimentale affettiva, come usare questa rottura sentimentale affettiva per muoverti, per andare verso il meglio, come approfittare diciamo del fatto, perché la vera felicità sta nell'interpretare nel modo corretto gli eventi. Noi viviamo in un mondo in cui capitano degli eventi e gli eventi capitano per diversi motivi. Talvolta sicuramente diciamo alcune azioni che abbiamo fatto generano il manifestarsi di altri eventi, altri diciamo essendo in interdipendenza, in un collegamento totale con tutto, ogni azione che facciamo però produce un risultato. E quindi questo cosa comporta? Beh, comporta una cosa importante che talvolta gli eventi, anzi la maggior parte delle volte non riusciamo a prevederli, perché possono essere anche fuori del nostro controllo, nel senso di una logica di interdipendenza, di collegamento con tutti. Però l'interpretazione degli eventi è nostra, quindi dipende da noi. Quindi una rottura sentimentale affettiva, poi qualcuno la può interpretare come una disgrazia e qualcuno può interpretarlo come un'opportunità. Sicuramente ogni crisi può essere utile per cambiare atteggiamento, può essere utile per farci vivere meglio le situazioni. Questo dobbiamo tenerlo presente, è un fatto importante. Bisogna rendersi conto che una relazione sentimentale affettiva sicuramente non è l'unica ragione per vivere, anzi, diciamo, ci sono ben altre. E comunque anche, tenendo presente che anche la vita sentimentale affettiva è sicuramente una delle aree della nostra vita, non è l'unica, e abbiamo relazioni anche non soltanto sentimentale affettive, ma relazioni con la famiglia d'origine, relazioni nell'amicizia, nel lavoro, appagamenti e autorealizzazione, realizzazione nel danaro, nella vita. Insomma, le aree sono diverse. Quindi l'area sentimentale affettiva è sicuramente importante, ma proprio perché è importante, non dobbiamo accanirci nella situazione sbagliata. E comunque non è l'unica cosa. C'è anche, sono i rapporti personali e sessuali, insomma, ci sono tante cose. Quindi devi pensare fondamentalmente a te stessa e approfittare della rottura amorosa, dell'interruzione di una storia, ti dà la possibilità di riconcentrarti su te stessa, di mettere, diciamo, in gioco, di uscire un po' dalla tua zona di comfort e di migliorarti. Questo può essere un ottimo stimolo. O per migliorare, magari dedicare più energia ad altre aree della tua vita. Perché sicuramente, beh, una relazione sentimentale affettiva di fatto ti faceva perdere tempo, da un certo punto di vista. Dovevi dedicare attenzione, energia a una persona e questo sicuramente ti faceva anche perdere tempo. Per cui è molto importante, anziché perdere tempo, dedicare il tempo a fare altre cose, dedicare il tempo a raggiungere altri risultati. Questo è un qualcosa che posso dirti è fondamentale. Dopo una rottura è molto importante ritrovare te stessa, riconnetterti con te stessa e anche con le persone che magari possono essere importanti per te, le amicizie. Quindi hai liberato tutta una serie di energie che potrai utilizzare proficuamente. Potrai, diciamo, riconnetterti con passioni magari trascurate, abbandonate, sogni, perseguire i tuoi sogni, provando nuove attività, incontrando nuove persone. Perché è ovvio che se tu sei vincolata da un impegno con una persona, beh, ovviamente ti precludi la possibilità di conoscerne altre. Quindi questo è un altro punto importante. Ritrovare la possibilità di conoscere persone nuove, ritrovare la possibilità di entrare in contatto, in collegamento con persone nuove è anche un fatto importante. Perché puoi scoprire piaceri che ti possono dare comunque spunti di serenità, spunti di benessere. Sono tutte aree fondamentali, sono tutte cose veramente importanti, veramente fondamentali, che possono trasformare, possono cambiare, possono radicalmente migliorare la tua vita. La rottura, diciamo, può essere sicuramente un'esperienza gratificante se scegli di usarla al tuo vantaggio rifocalizzandoti su te stessa. Devi renderti conto che grazie, diciamo, che il tuo benessere devi ricercarlo dentro di te, che la tua felicità devi ricercarla dentro di te, che è grazie a te stessa, a te stesso, che tu sei felice. E il tempo che avrai in più a disposizione non devi vederlo come uh, 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 sono da sola, uh, 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 adesso come faccio? No, assolutamente. Devi vederlo come la possibilità di fare nuove cose, la possibilità di entrare in contatto con nuove persone. Questo è quello che devi imparare a fare, non tanto di restare bloccato, bloccato in situazioni negative, anzi, proprio il contrario, ti devi dare proprio la possibilità di viverti delle situazioni positive. Questo è quello che devi imparare a fare. e c'hai tutte le possibilità veramente di ottenere questi risultati. Il tempo è il galantuomo da questo punto di vista. E se tu lo utilizzi al meglio vedrai che valuterai e potrai avere nuovi cambiamenti. Questi nuovi cambiamenti ti porteranno nuove, arricchiranno comunque la tua vita. Questo è veramente importante. Però ovviamente ci devi mettere un po' di energia per lo meno nella fase iniziale perché è evidente che se ti lasci prendere dallo sconforto soprattutto se alimenti quella cosa nefasta che si chiama rimuginare quella cosa nefasta che si chiama accanimento beh allora entrerai in uno stato necessariamente di malessere purtroppo nella tua vita ma tu potrai superarlo potrai superarlo tranquillamente se agirai nel modo corretto se agirai nel modo giusto e non ti lascerai sopraffare da situazioni sbagliate bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella se non l'hai ancora fatto così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terra Mascot ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra quattro livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare alle live abbonamento base con lezioni mirate abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica ciao